Due pillole sulla penna Bic. La prima è il cappuccio che è forato. Per quale motivo? Perché qualora uno sventurato o una sventurata lo ingoiasse, non può rimanere soffocata. La seconda è un foro che sta nel fusto della penna. Vi è mai capitato di mettere la penna in tasca e tutto l'inchiostro vi macchiasse completamente? Ecco, la ragione è perché avete tappato questo foro e tappando questo foro la pressione e il calore fa in modo che l'inchiostro possa fuoriuscire. Fate una cosa, non mettete mai la Bic in tasca.